Un Consiglio Comunale così importante, anche la chiesa della cittadina, si chiara che sono due sottili comunali ordinari, uno sul preventivo e uno sul concilio. Quindi questo è un Consiglio Comunale, ricordissimo, quindi è giusto avere un dibattito, ma certamente non è stato conditore qualcuno che cerca tanto, tanto di tale ai quali noi non siamo arrivati. Io ho preso tantissimo l'indefenso del Consigliere Massimo Ios, qualificato il suo fungolo dal primo giorno che la giornata di giornata di giornata finalmente si è tornato un pochettino, quindi adesso siamo in una parte costruttiva. Ciò ho detto questo, questo, questa amministrazione stiamo lavorando sul quotidiano. Ebbè, noi stiamo lavorando sul quotidiano, ma questa è una ragazza di infeccio. Noi ci portiamo dietro, come dici tu, dei problemi dentro e nani, dei problemi dentro e nani. Sono tutte le pomme che si stanno messendo dentro in mano, cioè, c'è, 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 c'è. Chiarci 있다 a color powiedział, ma quindi non sono un основ. Quindi, prendete questo un pembo e sto ha a farlo. Però come dichiarci tutt rằngi ho diventato una parte e quitando dalle decisionenze e quindi il futuro di questa città lì. Quello che possiamo mettere le nostre idee per cui ora sarà la città futuro. Però vengono sapere delle intervenzioni. Noi non ci sono neanche persone. Tu parlavi dei fatti io norvi. Beh L'assessore Marino stava lavorando di ritmo, di patrimonio, e penso che nessuno lo possa arrivare. Lui stava lavorando tanto sui dettagli di conoscenza, e stanno un punto da altri che sono stati chiamati centri attivituali, tutti colori, colori, tutti coloro che occupano le nostre lezze, affinché ci sia l'accesso della vita di questo inferno. Quindi, se noi capirà, possiamo aspettare che tu, se sei un esperto, è conoscito un interesse. E lo facciamo con i cibi, perché qui si noce. Cioè, per i corsi c'è qualcuno. Noi non abbiamo interesse. Noi abbiamo interesse personali. Io non c'ho delle belle. A caso di non c'ho delle belle, non c'hanno delle belle, non c'hanno familiari, che c'hanno imprese, non c'hanno ricordi, non c'hanno stramonti. Quindi tutto questo. Quindi possiamo gridare. Noi abbiamo, noi non c'hanno spediti nella casa. Allora, che cosa facciamo noi? Noi lavoriamo nella città. Allora, si parla dei libri. Limo si sta studiando una nuova, c'è una bellissima unica, il quale non sanno abbandare tutte le belle, non sono fatti in giudizio. Quindi si sta studiando un periodo revisionale, che è abbastanza del libri, ma c'è il punto di vista. Visto che io, fino all'anno scorso di Marco della Riccioli, ho fatto questo che mi credo che stai sedendo la terra. E ma lui era minimo, non c'era. Non c'è solo anche la realizzazione. Quindi questo è il nostro lavoro che stiamo facendo. E che cosa stiamo facendo ancora? Stiamo facendo. Tu dicevi che bisogna guardare bene all'incasso, alla riscossione. Bene. Adesso fatevi che stiamo facendo. Ma non è che ci sono dei distrucci, già. Affinché abbiamo delle risorse, e da queste risorse lo stiamo a investire. Quindi questo è quello che stiamo facendo. Poi, che sul contundivo, sui numeri, che si vuole mettere da soli ambienti, che sono in mezzo a tutti. Però come stiamo? Naturalmente. Noi abbiamo avuto il risultato. Conscienziamo che sta... Inizio è arrivato a capire il risultato. E poi stanno a vedere come il risultato. E poi stanno lavorando bene. Stanno lavorando bene. E poi è stato migliorato quando potrebbe. Ha parato 5 giorni prima delle risposte, non si mette ai ripetenti. Allora... Qual è la situazione? C'è una situazione che viene faceva una tante fiesta. Non ricordo l'anno. Certamente non è che si è arrivato 11-12. Non ricordo l'anno. Forse qualcuno se si ricorda andrà a vedere chi era l'assessore all'ambiente, andrà a vedere chi era l'assessore all'eccano. E che cosa stavano a crescere? No. E dalle qualità, per esempio, i cattori ambienti non erano soltanto una ripetca con i dati ambienti. Ma c'ha dei condizioni complessenti e in destra sui comuni di cattaccio. Quindi, ognuno si va da vedere il massimo cosa che sta subito nel passato. Allora, e cosa ha fatto per capire? Prima di tutto, anche se si dice questo, la sostensiva, non è stata ancora data. Il giudice, che io avevo visto la testa, che stava sismato, non so dove. Quarta caso, è stata trasferita ad un'attività, ad un'attività, ad un'attività di cartone. E la cattura, ad un'attività di cartone, ad un'attività di cartone, ad un'attività di cartone. Allora, la sua cattura di cartone, ad un'attività di cartone, ad un'attività di cartone. Per poter procedere. Quindi, mi sembra veramente la sostanza di cartone. Però, lo so, comunque, non c'è problema. E cosa ha fatto per la straniera? Perché non c'era il... lo dico, al gestente della commissione. Non c'era il gestente, personalmente, era il personaggio, ciò. E gli altri componenti ci si chiama, stanno a cartone, a trattare con la gestione di cartone. A proporre una ridemissione, a proporre una ridemissione, per poter togliere il rischio. Questo è quanto sta. E noi facciamo la ridemissione, per sapere. Noi, non vogliamo, ha la comunità di cartone. Una ridemissione, una ridemissione, una ridemissione, una ridemissione. Un'attività di cartone di cartone. Questo, nel senso che... Poi, ci sono gli avvocati che saranno, non so, la loro parte, e non ci saranno. Allora, volevo dire, che un altro problema, non solo, tanto, il trademissione di cartone di cartone, perché... E' una cartone antica, che ha indiettato causa la comunità di cartone, 160 mila euro. E ci ha rinnovato, un'attività di cartone. E da qui, e da qui, 4 milioni, 4 milioni, 4 milioni. Bene. Ed è la stessa cosa che... Un successo. Un successo. Un successo di cartone. Fatti provate in un... Un… Un… Una lang鈄ia di cartone. Nostro come si stanno chiamata. E' um… Va dipenario fa la regioni nella formula flood e la comunicatore. Da, per gli isoliplicity fala un'ambulne. Quindi, in cui... اA… C'èál che il modoule. Quindi, anche la situazione fu comprensatoria, ad acciare... Facciamo nella pal tau sulle pie. Di unvetto... Anche il si spende da veic. Stiamo cercando il tonalizzatore. Oggi è tale, un metodo, mi diceva che la dirigente c'era una relazione legata al consumo. Un'altra domanda che è stata posta, un'altra domanda, in modo sempre, con rigore, con atto, è per cui sono stati cambiati i dirigenti. E qui c'è stata la relazione dei dirigenti. Il banco ha detto che quando sono stati assunti, sono stati assunti, però loro hanno la protezionalità e la capacità. Ebbene, allora ce l'hanno e sono limitati anche in carriera. Ci sono limitati eccezionali. E quelli che sono stati cambiati sono competenti in carriera. E' un po' di tanti conti, eh, guadagnate, guadagnate… Quindi non c'è nessuna… E non c'è niente altro da… Tra l'altro. E' un po' di tanti. E' un po' di tanti. Che venga trovato questo guadagnolo con un uomo, a finire il progetto, possiamo mettere mano al minaccio per il nostro grado. Allora, sostanzi, saluti la nazione, che dà? Il regato, 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 i operatemi. Il copro di valutazione ha compiuto il controllo ed è preso in una relazione di concaversi delle modalità dai appyi. Quindi questa è una cosa determinante per autorizzare i fatti dei costretti responsabili, quindi è semplice progettare le sue altre fine, per poter compilare i costretti di lavoro. Grazie, ha chiesto di intervenire il consigliere di domani la vita.